Noi nel Consiglio Comunale di mercoledì scorso abbiamo interrogato il sindaco e l'assessore a ramo spettacoli, fiere e mercati Ignazio Barbieri per sapere a che titolo un imprenditore napoletano pubblicizzava due eventi canori all'interno del parcheggio dell'arena del Piemonte della Misericordia in quanto a noi risultava che non esistesse nessun titolo, nessun tipo di autorizzazione. Da questo è partita la nostra interrogazione rivolta all'assessore e al sindaco abbiamo chiesto per capire come mai vengono pubblicizzati negli eventi sul nostro territorio a Casamiccio, eventi tra l'altro di rilievo nazionale in quanto si tratta di due artisti Saldavinci e Biagioizio, artisti di fama nazionale e quindi degli eventi che sarebbero dovuti svolgere sul territorio di Casamiccio nell'arena del Piemonte tra l'altro a pagamento, quindi con una bigliettazione e abbiamo interrogato quindi con un documento il sindaco e l'amministrazione per sapere se esistesse qualche autorizzazione e come mai venissero pubblicizzati questi eventi. Noi risposte ad oggi non ne abbiamo ancora avute. Dalla questione spettacoli possiamo passare alla questione Expo che è quello che si sta verificando proprio in questi giorni, cioè i signori irace vengono invitati a fare una fiera da un'aggiunta tra l'altro munca perché l'assessore a ramo, appunto sempre Ignazio Barbieri, non sottoscrive questo documento il sindaco dovrebbe rilasciare un'autorizzazione per poter effettuare questa fiera ma ad oggi tale autorizzazione non c'è e la fiera è già pubblicizzata con partenza da ieri. Queste sono tutte domande che ci chiediamo e che soprattutto si chiedono i cittadini. Tra l'altro viene fatta e viene proposta una fiera all'interno di un'area inagibile, un'area insicura un'area che non ha nessun tipo di requisiti igienico-sanitario affinché si possano effettuare questo tipo di manifestazione. Oggi noi siamo proprio all'interno di questa arena che poi tra l'altro è un'area di parcheggio utilizzata dai residenti, utilizzata dai commercianti, utilizzata da tutti coloro che vivono questa zona che non riusciamo tutti quanti insieme ad immaginare area di mercato, area di fiera nel momento in cui un'area di fiera viene assalita e soprattutto viene usufruita da migliaia di persone.